La tristezza è solo, è l'unica ad essere il contrario della felicità? Un cuore triste, un viso triste, certamente non mi richiama ad un cuore felice, ma il contrario della felicità, quindi oggi diremo qualcosa su ciò che non è felicità, o meglio riprenderemo a dire qualcosa perché già in precedenza l'abbiamo detto, la tristezza dicevo non è il solo stato contrario, stato d'animo contrario alla felicità, vi è qualcosa ancora di più subdolo e di più profondo che ci rende non solo tristi ma anche infelici, soprattutto infelici. Sapete qual è? La noia. La noia di cui il mondo è pieno, di cui oggi la nostra vita è piena. Non dobbiamo lasciarci ingannare dal fatto che vediamo un mondo in continuo movimento, con un mondo sempre impegnato, con tante cose da fare. Eppure io sperimento, vedo e rifletto sul fatto che in un mondo iperattivo vi è uno stato d'animo diffuso nelle persone di ipernoia. Sì, ad un mondo iperattivo per me corrisponde sempre più un mondo di ipernoia. Quando delle volte porto per esempio, o mi trovo per incontri, per predicazioni, ma anche ho portato delle volte dei giovani, ma anche degli adulti, in monasteri di clausura, clarisse oppure monaci benedettini. Bene, la domanda che spesso fanno giovani ma anche adulti, ma come si fa a stare qui? Io mi annoerei dalla mattina alla sera, come si fa ad essere chiusi? Qui dentro io mi annoerei, perché per noi non è possibile un luogo di silenzio, di lavoro, di preghiera senza noia. No, vedete, eppure nelle testimonianze di monaci, di monache clavisse piuttosto che benedettine, vi è sempre nel loro volto un sorriso che nasce dal cuore. E quel sorriso non può essere presente in un cuore annoiato, in uno stato d'animo di noia. Perché? Quel silenzio, quel lavoro, quella preghiera, quella scelta di restare lì per tutta la vita, quella scelta di offrire la propria vita nel nascondimento, è una scelta che nasce e che viene semplicemente dall'amore. E questo è che rende felici. La noia è il contrario della felicità, insieme alla tristezza. Vi aspetto domani, parli più TV dritto al cuore. Ciao a tutti!